Sì Allora, cominciamo Non credo di spendere tantissimo per Faris Cioè, vorrei fare la free multi Che ovviamente non troviamo nulla Orba azzurra, quindi ok, fastfifo Mettiamoci già il cuore in pace Spendo probabilmente qualche ticket Così giusto per Giusto per scaramanzia Ma Ma non mi interessa fondamentalmente Non mi interessa fondamentalmente Faris, non mi interessa Ok, 35 di Gilgamesh Pessima free multi Ma ovviamente non si può avere tutto Abbiamo 319 ticket Allora, iniziamo a buttare Sti 19 ticket, vediamo cosa succede Ah, 35 di Faris, buona Anche se tanto 35 di Faris in realtà 35 di Gilgamesh Buono, sono Powerstone Che mi servono Che in JP sto praticamente Senza Powerstone Stamattina ho trovato la LED di Young E la borsa di Carla Do santo sottofondo Alla live Buono Sono contento che Ti faccio da talismano Il JP ultimamente Mi va lentuccio Delle volte Non so perché Dardin è andata molto bene LED dalla free E poi In 25 ticket Ho trovato anche la X Quindi ho Praticamente Maxato Praticamente Maxato tutto Allora, arriviamo a 300 Vediamo cosa succede Arrivando a 300 In realtà per Faris Non ci vorrei spendere Perché non ho neanche la X Non avendo neanche la X La cosa in realtà Non Non mi fa impazzire Ecco Mettiamola così Non mi fa letteralmente Impazzire Questo perché Sculo sempre Avete visto Che la free Mi è andata male Eh, questo perché Sei culone Di qua Culone Culone Allora, siamo a 300 ticket Allora, io direi che vado a 250 Cioè facciamo altri 50 ticket Eh, oltre Oltre questi E basta Poi per il resto Per il resto Non mi interessa Cioè non Faris in realtà Non mi interessa più di tanto Quindi Come dispeller Come debuffer Eccetera eccetera Ne ho Quindi non è quello Il mio problema Anche perché ancora Devo iniziare a fare Le feod Quindi Già sono le 10 Quindi dobbiamo metterci Dobbiamo metterci all'opera Se noi non finiamo più No, no Comunque Stavolta sono serio Non Non lo sto strollando Cioè faris Non mi interessa Cioè sto pullando Solo Per gola Fondamentalmente Cioè solo per avere Il personaggio Solo per dire Ce l'ho Ma Non mi interessa In realtà Più di tanto Certo Mi piacerebbe Trovare un'altra BT In realtà Perché così Almeno mi faccio i token Se devo dirla tutta Però Però sono 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 Diciamo Sono conscio Del fatto Che non succederà mai Quindi Quindi va bene così Cioè Mi illudo Ma Mi illudo E basta Allora 250 Mi fermo Comunque Cioè ce lo sto dicendo Adesso Anche perché Ripeto Non ho manco L'ex di Di Lenna E Sì di Lenna Ciao Di Paris E Tecnicamente Non ho neanche Come poterle prendere L'ex Perché non ho Token ex Quindi Non sto ridendo Perché Perché dovete dire Che sto ridendo Sono così serio Vediamo una volta Che sono serio Cioè guardate Tutte orb Azzurre Tutte Tutte orb Azzurre Cioè Neanche il piacere Di farmi vedere Una orb Dorata Mi sta dando Il gioco Stasera Cioè Neanche il piacere Di dire Orb Dorata Attenzione Facciamo un po' di Un po' di scena Niente Non possiamo fare Neanche un po' di scena Un po' di teatrino Niente Non posso fare un cazzo Stasera Mi sa che devo pullare Prima nel GP E poi nel global Perché mi sa che La parte global Oggi Mi ha Mi ha preso La fortuna Attenzione Però Orbo dorata Ok Allora qui Le cose Sono due O mi esce L'ex di Faris O mi esce L'LD A me va bene Vanno bene entrambe Vorrei effettivamente L'LD Perché così L'ex poi Volendo Se proprio La reputo necessaria La prenderò Poi O anche O magari Una BT Potrebbe essere Interessante Una bella BT Come per terra Che mi è uscito Il doppione Io voglio L'LD Ok Lock di merda Bastardo Lock Hai una sfera Che mi fa Cagare In realtà Quindi Quindi va bene Lock di merda Va bene Ultimi 19 ticket Buono Gilgamesh Altre Powerstone Beh ma mi sa Che l'ex di Lock Comunque L'avendo Perché neanche La sfera Mi piace Tantissimo Se non sbaglio Era quando Non venivi Targettato Che ti aumentava Le stats Quindi Sinceramente Non mi interessa Più di tante Tutto Tutto Orbo Azzurra Ultimi 10 ticket Così vedete Vi sto dimostrando In live Che non sono Culone So che tutti Poi iniziano A dire Che sono Culone Giusto per Per chiarire Giusto per Chiarire Questa cosa No Che 200 Ma sei pazzo Che 200 Ma sei pazzo 200 ticket Al massimo Poi ci spendo Quelli delle Ricompense Delle co-op Dopo Visto che ancora Non ho fatto Non ho fatto Le co-op Ma per il resto Per il resto Ba zero Cioè non Non me ne frega Nulla Sinceramente Ripeto Sto pullando Solo per Capriccio Solo perché Ho le risorse Per farlo Ma non Ma non ci pullerei A quest'ora 15 di Girga Di Greg Boh A posto 250 ticket Avete visto Non abbiamo trovato Niente Perché 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 non sono culone Non sono culone È una vostra Fissazione Io sono una persona Normale Quindi Quindi